Di nuovo buongiorno a tutte e a tutti, mi chiamo Alessandro Chiarini, sono diciamo di formazione cloud architect, mi sono occupato per molto tempo di progetti che hanno a che fare col cloud, ma per tanto tempo mi sono anche occupato di progetti che hanno a che fare con la data science, in particolare ho gestito un team nel passato di DML Ops. Ora mi occupo in un'organizzazione che è un competence center, ci entriamo magari nei dettagli dopo, di fare da consulente su progetti di ricerca e sviluppo nell'ambito delle life science. Oggi parliamo quindi intanto di quello che è il contesto in cui noi stiamo progettando questa piattaforma di intelligenza artificiale per poi calarlo su quelli che sono le necessità della compliance con l'AI Act, che cosa introduce l'AI Act e come le pratiche MLOps hanno a che vedere con i principi e le imposizioni, i vincoli che ci dà l'AI Act. Questo diciamo per introdurre il tema e quello che effettivamente dentro B-REX stiamo facendo in termini di progettazione e sviluppo di una piattaforma dell'AI. Quindi per partire diamo il contesto. B-REX è un centro di competenza che è sostanzialmente un'organizzazione pubblico-privata formata da un certo numero di università, tra cui quella principale di Bologna. Infatti poi come B-REX siamo basati a Bologna e molte aziende di diverso tipo, aziende che sono diciamo così, noi le chiamiamo end user, sono aziende che utilizzano la tecnologia per il loro core business e dato il territorio per chi diciamo bazzica dalle parti di Bologna, sono aziende che hanno a che fare molto spesso con la meccanica e con l'automazione e poi ci sono aziende technology provider che sostanzialmente forniscono tecnologia, soluzioni, system integration. Questi sono i componenti del consorzio. Tra i componenti del consorzio ci sono anche istituzioni, ospedali, centri di ricerca che invece hanno a che fare con le life science. Ecco perché all'interno di B-REX che è il centro di competenza sui big data c'è un, diciamo, non la chiamerei una business unit ma sostanzialmente una team di competenza sulle life science che sta lavorando in alcuni progetti finanziati col PNRR che hanno, diciamo, questa caratteristica di essere progetti collaborativi che includono molte università, centri di ricerca, IRCS che sono speciali ospedali che hanno, diciamo, anche la missione di fare ricerca e aziende private, start up con l'obiettivo di sviluppare tecnologie e casi d'uso nella medicina di precisione. La medicina di precisione è sostanzialmente una nuova branca della medicina che ha l'obiettivo di costruire, diciamo, farmaci, dispositivi basati sui dati specifici del paziente. Quindi l'obiettivo di questa branca della ricerca è quella di arrivare a costruire delle soluzioni che sono basate sull'effettivo stato di salute del paziente perché sappiamo che tra diversi soggetti ci sono delle differenze e quindi dare la stessa quantità di una medicinale piuttosto che utilizzare lo stesso dispositivo clinico nella stessa maniera in soggetti che sono molto diversi tra di loro ha poco senso dal momento che stiamo sviluppando tecnologie che aiutano a, diciamo, a impattare la patologia. Come BRX siamo in quella parte del progetto che ha l'obiettivo di costruire le piattaforme Big Data e le infrastrutture Big Data per sviluppare modelli di intelligenza artificiale, soprattutto quello. Ci sono anche parti di calcolo che hanno a che fare con la chimica computazionale, ma oggi siamo un po' più focalizzati sull'intelligenza artificiale e quindi il nostro obiettivo è quello di costruire e partecipare a questa infrastruttura collaborativa per lo sviluppo di modelli nell'ambito delle life science, della medicina predittiva. Capite anche voi che ho usato alcune parole chiave che in qualche modo triggerano il concetto di rischio e comunque il concetto di privacy, privacy dei dati, dati sanitari. Questo sicuramente è uno dei settori, forse, quello con cui abbiamo a che fare quotidianamente, perché poi ce ne sono altri altrettanto normati, ma magari sono un po' meno al di fuori della nostra portata, dove regolamentazione standard impattano molto lo sviluppo e anche, diciamo, tutta la fire tecnologica. Altro elemento di contesto che aggiungo, come dicevo in un'introduzione, è quello dell'AI Act. Oggi è un mese che è entrato, diciamo, che è stato approvato l'AI Act. Entrerà in vigore gradualmente, ma diciamo, completamente nel 2026. L'AI Act è un regolamento emanato dal Parlamento europeo che, appunto, ha l'obiettivo di regolare le soluzioni di AI sul mercato europeo. In primis, l'obiettivo è quello di creare sostanzialmente omogenizzazione all'interno del mercato in modo che vendor sviluppino oppure importino soluzioni di intelligenza artificiale senza differenze tra i mercati di uno stato membro e l'altro. Abbiamo visto, è stato utilizzato, adesso io non sono, diciamo, io di formazione sono ingegnere, non sono sicuramente un giurista, però lo do come contesto, l'Unione Europea può emanare due tipi di leggi, i regolamenti che sono uguali in tutta l'Unione Europea e diventano corpo delle leggi degli Stati membri oppure le direttive che invece sostanzialmente impongono ai vari parlamenti e organi legislativi degli Stati membri di creare delle leggi che riassumano i principi chiavi emanati in quelle direttive. Come per il GDPR, l'AI Act è un regolamento, quindi vale uguale in tutti i paesi dell'Unione Europea. Non ci sono eccezioni, ci sono dei provvedimenti che prevedono che poi ci siano istituzioni locali e specializzazioni locali, ma sostanzialmente il corpo e la struttura dell'AI Act è stato scritto per poterlo replicare, perché sia valido in tutta l'Europa. L'obiettivo, come diciamo, tra gli obiettivi principali ci sono quelli di creare un'omogeneità nelle condizioni di mercato tra diversi fornitori e produttori, sviluppatori di soluzioni AI, di fare in modo che l'aspetto di sistemi affidabili e che sono affidabili proprio nel termine della fiducia in questi sistemi, quindi ci sono anche un aspetto etico nell'adozione sia anch'esso omogeneo rispetto a tutti i paesi membri, al tempo stesso l'obiettivo è quello di fare in modo, creare una legislazione dove si identifichino in maniera, diciamo, in anticipo e si gestiscano tutti i rischi adottati all'interno del, tutti i rischi che comporta appunto l'adozione di questi sistemi di intelligenza artificiale. Ultima ma non importanza, l'altro obiettivo è quello di supportare innovazione e l'eccellenza europea, comunque porre la barra molto in alto per l'Europa nel campo dell'intelligenza artificiale. L'AI-ACT fa parte, diciamo, di una serie di manovre e di, diciamo, di un piano di lavoro che l'Europa si è data sull'intelligenza artificiale nel corso di quest'ultima legislatura. Può, diciamo, sembrare che l'aumento della regolazione, dei regolamenti, delle regole impediscano, ma in realtà ci sono nell'AI-ACT degli articoli che sostengono le start-up, sostengono la ricerca e limitano invece l'impatto dei costi nella compliance e favoriscono appunto l'innovazione. Vedremo poi anche nel corso della slide in particolare quali costrutti. Dal punto di vista della compliance, però, non possiamo negare che l'AI-ACT pone delle sfide, sfide che in qualche modo sono legate a un'interpretazione e a una necessità di chiarire quelli che sono i ruoli previsti dall'AI-ACT stesso, in particolare nei primi articoli vengono definiti tutti quelli che sono differenti ruoli rispetto a chi opera nel settore dell'intelligenza artificiale, quindi oltre agli end-user, chiaramente ci sono figure, soggetti che possono essere diversi tra chi sviluppa, chi deploya sistemi di questo genere o chi importa soluzioni da mercati terzi. Ci sono sfide che riguardano l'organizzazione dei soggetti che intendono sviluppare o utilizzare o deployare queste soluzioni dal punto di vista dell'organizzazione e della gestione della qualità al loro interno. Ci sono delle sfide che invece riguardano l'adozione di pratiche sul gestione del rischio e la trasparenza. Sulla carta stampata o su qualunque altro canale di informazione si fa molto riferimento a OpenAI, la trasparenza sui dati che sono stati utilizzati, la pessima figura della loro CTO quando, diciamo, sotto intervista non sapeva dire se effettivamente erano stati utilizzati i dati o no da YouTube. Insomma, il tema della trasparenza che riguarda anche quali sono i dataset utilizzati è un tema fortemente fortemente impattato all'interno dell'AI Act. Oltre a questo, diciamo, ci sono sfide che hanno in qualche modo dei risvolti un po' più tecnici o che comunque impattano anche l'aspetto più tecnologico. In particolar modo tutto ciò che riguarda la data governance, la gestione e l'elaborazione del dato, aspetti che riguardano la privacy e implementazione di politiche di privacy differenziale o comunque il rispetto del regolamento europeo sulla privacy che, diciamo, non viene emendato da questa legge ma deve essere, diciamo, implicito. Così come c'è una sezione che prevede l'adesione e l'armonizzazione tra i diversi standard che sono attualmente presenti ma che, essendo quello dell'AI dal punto di vista delle tecnologie un mondo eterogeneo e di sicuro non stabile, si prevede, il legislatore prevede, che ci sia in qualche modo un'aderenza che anche ha futuri standard che emergeranno e si consolideranno. Ultima, e stavolta, diciamo, non per importanza ma secondo me è un aspetto, uno degli aspetti molto interessanti dal punto di vista anche delle pratiche MLOps è il concetto delle sandbox regolatorie. Questo concetto non è un concetto nuovo introdotto dall'AI Act perché è un concetto esistente e che in Italia è implementato per esempio nel FinTech quindi chi lavora io diciamo disclaimer non ho mai lavorato in questo settore ma diciamo chi lavora in questo settore ha a che fare già con questo genere di costrutto l'AI Act prevede l'istituzione di queste sandbox regolatorie che sostanzialmente forniscono un ambiente limitato e dove però è possibile diciamo sviluppare e mettere in test dei sistemi diciamo con delle deroghe al diciamo così all'AI Act comunque in maniera da poter rapidamente ottenere feedback e fare sostanzialmente anche un derisking della soluzione che si vuole sviluppare. Nel diciamo ultimo elemento del contesto che vorrei dare è quello del diciamo della metodologia o del framework MLOps se diciamo per analogia di suono MLOps richiama il concetto di DevOps o comunque l'obiettivo è quello di far collaborare far lavorare pratiche che vengono da sviluppo di modelli di machine learning piuttosto che intelligenza artificiale non voglio non voglio nemmeno perdere troppo tempo a fare distinzioni in questo senso però sostanzialmente prevede delle pipeline che sono differenti perché quello che viene modificato sono magari non strettamente codice sorgente ma sono dati metadati iperparametri mentre quello che è invece il mondo dell'operazionalizzazione di questi modelli dove diciamo l'accento lo stress a questo punto è fondamentale anche su quello che è tutte le tematiche di osservabilità di misurazione delle risposte e ancora forse in modo più forte rispetto al DevOps ammesso che io non ritengo che siano due cose diciamo completamente comparabili perché diciamo riguardano aspetti dello sviluppo leggermente differenti nell'MLOps a mio avviso c'è un accento su il coinvolgimento di tutti gli stakeholder di un sistema di intelligenza artificiale compresi quelli che sono gli end user che in qualche modo nella fase di post deployment sono quelli che generano dati generano distribuzioni che devono essere monitorate per avere il monitoraggio del modello stesso e politiche di adattamento del del modello rispetto a quelli che sono gli scopi del quello che è lo scopo iniziale del sistema di intelligenza artificiale le diciamo i punti a valore aggiunto con cui soluzioni MLEOPS sono in qualche modo vendute sul mercato sono sostanzialmente l'incremento del time to market nell'utilizzo di queste soluzioni l'incremento della produttività e diciamo quelli che sono un robusto comunque un controllo governance del ciclo di vita del modello che viene implementato attraverso questa metodologia e queste soluzioni oltre che la collaborazione tra diversi attori questo abbiamo già comunque detto probabilmente la diversità di questi attori è ancora maggiore che nel modello DevOps e l'efficientamento evidentemente dei processi attraverso l'automazione dal punto di vista diciamo del che cosa ha a che vedere il framework MLEOPS con la compliance con le AI Act ecco secondo me ci sono questi particolari aspetti dove effettivamente ci sono parecchi punti di contatto in particolar modo io sollevo l'aspetto di data governance e management che è previsto regolato dall'articolo 10 perché soluzioni di MLEOPS possono prevedere la gestione della governance del dato possono identificare bias possono attraverso strumenti di esplorazione dei dati identificare e misurare distribuzione di popolazioni possono esserci strumenti anche di privacy preserving per esempio strumenti che generano dati sintetici utilizzando dei subsample di dati iniziali questo appunto o strumenti di privacy di privacy differenziale l'automazione la forte spinta all'automazione quindi continuous integration continuous deployment sostanzialmente implica tracciabilità quindi automazione vuol dire che ci sono dei processi che vengono eseguiti e loggati implicano implica l'implementazione implica il controllo di versione e quindi diciamo riproducibilità dei vari processi così come diciamo le componenti che riguardano l'ispezione e la gestione del modello vanno a impattare diciamo tutti quegli aspetti che le AI Act sono denominati come trusswords vanno sotto questo cappello e quindi l'implementazione attraverso questo strumento di queste l'identificazione di queste metriche ci consente in qualche modo di intaccare direttamente questi requisiti che ci dà l'AI Act oltre che questo diciamo a seconda anche di quelli che sono gli effettivi casi d'uso e scenari di utilizzo strumenti che vanno a misurare la robustezza del modello eventualmente anche con attacchi avversari ci sono soluzioni chiaramente non è obbligatorio questo è un discorso molto generale però ci possono essere anche soluzioni di questo tipo da integrare nel ciclo di vita o strumenti che vanno a monitorare e retroazionare misurare i drift del dataset drift e quindi ci consentono di ottenere questo tipo di metriche e retroazionare poi altri processi di riaddestramento e riposizionare quindi il modello all'interno del suo funzionamento qua faccio una piccola parentesi io provengo come dicevo prima da un mondo che ha a che fare con le life science qui c'è una grossa differenza anche rispetto agli aspetti regolatori esistenti ovvero quando si progetta un software che diventa un medical device quindi viene certificato come tale dietro c'è anche una concezione di sistema che quando viene rilasciato sul mercato viene di fatto bloccato il sistema è congelato e si si immagina diciamo per ipotesi di lavoro che il sistema continui a funzionare stante le diciamo le condizioni previste d'uso questo sappiamo molto bene che non è un modello che si applica to cure al mondo dell'intelligenza artificiale sappiamo che noi andiamo a campionare cioè andiamo a prendere dei dati che sono tipicamente una sottopopolazione o sono una popolazione non di completo riferimento rispetto al modello che andiamo ad allenare e poi nella deployment di questo modello osserveremo sicuramente delle differenze vi faccio un esempio mi è capitato di seguire un progetto dove abbiamo collezionato dati di risonanza magnetica da una decina di ospedali in giro per il mondo questo in un time frame limitato intorno agli anni 2013 15 diciamo che cosa succede? succede che quando questo sistema deve essere viene addestrato con questi dati va in produzione in produzione succede che ci sono macchine nuove macchine diverse e queste macchine hanno tipicamente dei segnali e rumori leggermente differenti delle distribuzioni differenti pur rappresentando lo stesso compartimento anatomico quindi che cosa succede allora al nostro modello quando quando ha a che fare con questo nuovo tipo di dati come diciamo il vero tema è io ho previsto nel mio sistema MLOps di governare di misurare questo drift e di governare creando dei processi che fanno aggiornare il modello è chiaro che devo prevedere anche con il regolatore che questi processi siano siano corretti anche dal punto di vista del rispetto delle normative FDA per gli Stati Uniti e il mercato americano EMA e software medical device MDR per il mercato europeo quindi tutto questo è estremamente articolato ma in qualche modo mappa su dei processi e anche degli strumenti all'interno del mondo MLOps il concetto che in qualche modo volevo stressare che viene da appunto l'articolo 53 dell'AI Act è quello delle Regulatory Sandbox le Regulatory Sandbox sono degli ambienti che sfruttano la caratteristica di isolamento di mitigazione del rischio derivata dal fatto che è un ambiente isolato dalla limitazione del tempo quindi questi progetti devono prevedere una durata limitata per poter ottenere quello che è un valore dalle metriche che vengono prodotte nella sperimentazione del caso ovvero seguendo esattamente una logica agile si cerca di fare una sperimentazione il prima possibile per ottenere quelle che sono gli effettivi valori dei real world data cioè dati di effettiva validità sulla popolazione target e questo ci dà la possibilità di valutare più correttamente i rischi connessi alla nostra applicazione e al tempo stesso avere anche la possibilità di prendere questo feedback e utilizzarlo nell'ulteriore miglioramento della nostra soluzione o del nostro prodotto quindi il beneficio che si ha dalla individuazione di questo meccanismo chiamiamolo così di questo nuovo tipo di processo è quello di avere una sperimentazione controllata del nostro sistema di avere sostanzialmente un rilassamento degli obblighi regolatori prevede un rilassamento degli obblighi regolatori e al tempo stesso però ci consente di automatizzare quelli che sono i processi e mettere in piedi automatizzandoli i processi della gestione del ciclo di vita del modello e dal momento che abbiamo un sistema che comunque è limitato per definizione su questi su questo sistema limitato possiamo avere un incremento nella supervisione dal punto di vista del sistema stesso passando a questo concetto siccome nel titolo abbiamo parlato di piattaforma ibrida in Birex abbiamo una nostra infrastruttura basata su virtualizzata e in particolar modo gestita attraverso OpenStack in maniera da avere una modalità se volete self-service del provisioning delle risorse su questa infrastruttura poi abbiamo un ambiente o workload basati su container quello che è importante è che abbiamo una partizione di questo sistema che prevede delle GPU quindi con nodi che prevedono le GPU e su questa piattaforma noi installiamo su questa infrastruttura installiamo una piattaforma che sostanzialmente deve prevedere funzionalità in modo da rispondere a requisiti di riproducibilità disponibilità del sistema e scalabilità ma nel senso della riutilizzabilità dei moduli del codice e delle soluzioni questo perché se da un lato noi come centro di competenza abbiamo la missione di far sperimentare velocemente alle aziende ai soci agli vari stakeholder tecnologie metodologie legate alla gestione dei big data quello che capita è che tipicamente abbiamo moltissime proof of concept moltissime e un team abbastanza risicato il numero di risorse e quindi abbiamo bisogno di avere strumenti che aumentano la collaborazione e diminuiscono l'overhead nel creare progetti o nuovi nuovi più sì quindi più riusciamo in qualche modo a pacchettizzarlo e a renderlo scalabile dal punto di vista della riproducibilità e più in qualche modo siamo contenti detto questo l'idea è quella di utilizzare dal momento che abbiamo progetti che possono essere che possono avere un diciamo un workload non predecibile di avere una estensione su altri cloud provider il primo dei quali stiamo diciamo sviluppando l'estensione su google cloud sempre questa estensione è diciamo così gestita attraverso kubernetes quindi anche qui stiamo predisponendo che i workload girino come container su un ambiente gestito da astratto da kubernetes e diciamo questo schema lo vogliamo tenere buono per poter avvicinare o gestire altri cloud provider io qua ho messo il logino di azure ma diciamo non in questo momento non è diciamo in scopa al nostro progetto ma potrebbe esserlo nel futuro diciamo con l'idea di avere una infrastruttura che può diciamo che non è loccata a un particolare cloud provider ma che può essere migrata da uno a un altro cloud provider facendo un piccolo passo indietro perché diciamo perché abbiamo questa infrastruttura perché all'interno di brex abbiamo come dicevo prima un importante asset che è costituito dalla linea pilota la linea pilota è di fatto una linea produttiva con tecnologie 4.0 e quindi ci sono stampanti 3D ci sono robot cobot ci sono agv è una linea che ha diciamo su tutti i punti di lavorazione sensorizzati e che scambiano dati con una rete 5G interna rete 5G che ha lo scopo appunto di produrre bassa latenza alto throughput e di fatto essendo centro di competenza la nostra missione è quella anche di dimostrare la disponibilità e i benefici di queste tecnologie qui è rappresentato in una iconcina molto piccola il cane spot della Boston Dynamics che al nostro interno utilizziamo in un'applicazione che effettivamente dimostra la availability di queste tecnologie avendo un lidar sulla schiena lidar che produce molti dati e dati che poi vengono utilizzati vengono processati in maniera diciamo edge trasmessi quindi col 5G processati su un data center edge del network provider e questo data set edge qua abbastanza importante da dire sostanzialmente implementa un continuum tra edge e cloud attraverso ancora la piattaforma Kubernetes e in particolar modo e quindi forse se dico qual è la distribuzione di Kubernetes che utilizzano forse si capisce anche qual è il cloud provider comunque è Anthos che è la soluzione di diciamo di gestione di cluster Kubernetes di Google Cloud e quindi ci consente di fare offloading anche di questi carichi che diciamo iniziano come edge su cloud provider quindi questo è un po' anche il motivo per cui abbiamo questa la necessità di far sopravvivere e di manutenere questa infrastruttura che nasce ibrida per per disegno questa diciamo per la parte compute per la parte proprio più infrastrutturale dal punto di vista del software che 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 implementa poi i processi ML Ops noi abbiamo scelto diciamo in una prima a un primo livello di appoggiarci su una soluzione commerciale di terze parti quindi abbiamo scelto Data IQ perché è una soluzione che sostanzialmente prevede un ciclo di vita end to end del modello quindi copre il 90% diciamo così del ciclo di vita del modello lo copre attraverso sostanzialmente delle diciamo dei nodi che in qualche modo implementano la parte di design un nodo che implementa la parte di continuous integration e continuous deployment che viene chiamato deployer e poi una parte che è il nodo automation che ha una sua distribuzione software che di fatto implementa la parte più di serving e diciamo di serving delle soluzioni e questo diciamo poi abilita anche degli endpoint a cui rispondono delle API e quindi io posso da questa piattaforma anche deployare i miei modelli renderli utilizzabili attraverso delle API RESTful dal nostro punto di vista io non sto assolutamente vendendo questa soluzione però diciamo come dicevo il primo vantaggio per noi era che copriva sostanzialmente un buon 80-90% di quello che ci serve dal punto di vista dell'MLOps quindi copriva la parte sicuramente di data management copriva sicuramente la parte più di versioning e di sviluppo del modello ha peraltro delle funzionalità che vanno verso un modello molto self-service e in un'organizzazione estremamente dinamica dal punto di vista del tipo di risorse umane che ci lavorano e dal punto di vista del come dire effort richiesto per implementare progetti sono progetti di POC quindi sostanzialmente fattibilità di particolari tecnologie applicate degli use case un ambiente che è self-service e fornisce delle funzionalità low code in qualche modo aiuta molto nella velocità di esecuzione di più data IQ è cloud agnostic che significa che lo posso deployare sostanzialmente dove voglio e quindi è compatibile anche con la nostra infrastruttura questo diciamo non è sempre sufficiente e quindi stiamo pensando stiamo lavorando all'implementazione anche di una parte di una componente open source e di uno stack che noi chiamiamo di ricerca e sviluppo questo perché se da un lato data IQ una soluzione di terze parti ci consente di avere enorme flessibilità scusate se da un lato ci consente di avere enorme velocità dall'altro la flessibilità è un po' diciamo sacrificata se vogliamo dire o comunque ci sono dei costrutti che però richiedono più boilerplate eccetera insomma non voglio dilungarmi sulla tecnicalità della questione ma invece ci sono soluzioni open source che consentono di raggiungere diciamo le feature che abbiamo identificato essere importanti nel rispetto diciamo così della nostra implementazione di un ciclo ML Ops e dall'altra parte appunto sono open source customizzabili e non hanno problemi nemmeno di scala quando gli utenti o i carichi di lavoro effettivamente possono aumentare quindi questo diciamo con la soluzione dell'arendi stack ci consente di avere come dire molta più flessibilità e più capacità di scalare dovuta appunto alla distribuzione open source di questi di questi framework un po' più nel dettaglio MLflow in particolar modo per noi è importante per quello che riguarda la tracciatura di tutti gli esperimenti di machine learning quindi la capacità di raggruppare metriche indicatori di ciascun esperimento la possibilità di incapsulare tutte queste metriche in un formato che può essere in qualche modo gestito e riprodotto e abilitare la collaborazione e non ultimo la possibilità di avere dei costrutti che ci consentono di fare il deployment di modelli di fare il deployment in un ambiente containerizzato e di avere riproducibilità a gestione dei modelli attraverso il model registry mentre kubeflow diciamo ha la sua trova la sua necessità quando vorremmo sostituire o comunque in qualche modo accoppiare data IQ nelle sue funzionalità di diciamo così gestore di notebook gestore dei processi di automazione dei processi di continuous integration e continuous deployment col costrutto delle pipeline gestore del training l'abbiamo scelto perché è un progetto che si basa su kubernetes ha molte affinità con google cloud essendo stato sviluppato all'interno di quell'ecosistema quindi ci sono anche delle affinità con le pipeline native dell'ambiente mlops di google cloud e poi ci sono anche delle diciamo delle funzionalità che consentono di automatizzare la parte di tuning degli iperparametri e quindi ci sembra una buona scelta da come dire per avere un ambiente che automatizza anche tutta quella parte di pipeline e notebook che altrimenti non avremmo con solo mlflow questo diciamo dal punto di vista delle due dei due livelli non dico di astrazione ma di gestione delle mlops che ci stiamo dando ne abbiamo uno che è sostanzialmente già pronto perché di fatto è sviluppato da terze parti e lo stiamo integrando nella nostra infrastruttura e l'altro che invece sarà se volete è già pronto anch'esso ma sarà comunque richiederà più tempo per essere integrato all'interno dei nostri cicli di lavoro e in particolar modo ragionevolmente incomincieremo da mlflow che ha alcune complementarità già con data i cui quindi può essere già integrato salvo appunto l'attenzione a alcune limitazioni che in questo momento non ci impattano tanto il più riguarda diciamo controllando la documentazione riguarda gli aspetti che hanno a che fare con il linguaggio AR che però in questo momento non è un linguaggio che stiamo utilizzando nei nostri progetti e quindi questo è un po' il percorso che ci vede che ci vede integrare prima mlflow e poi creare appunto questo concetto di piattaforma che integrerà anche kubeflow in una picture generica cioè generica nel senso che generalista che include tutti questi elementi processi e strumenti con cui implementiamo questi processi vuole in qualche modo anche riassumere quelle che sono gli aspetti di compliance agli articoli dell'AI Act in particolar modo se diciamo in una in questa rappresentazione di ciclo di vita vediamo che l'aspetto di sviluppo iniziale del nostro modello machine learning può essere fatto come dicevo attraverso differenti piattaforme in particolar modo noi appunto prevediamo di utilizzare strumenti che ci consentono di mettere a collaborare diversi come dicevo prima stakeholder quindi partendo da quello che è l'analisi dei casi d'uso il co-design eventualmente con gli utenti finali del caso d'uso fino allo sviluppo diciamo fino all'integrazione delle sorgenti dati data processing e lo sviluppo dei primi modelli la piattaforma ci consente di documentare tutti questi passaggi qualunque delle due piattaforme sostanzialmente quello che è importante appunto è il riferimento a quelli che sono gli articoli e la compliance agli articoli dell'AI Act fino ad arrivare al deployment che possiamo immaginare o attraverso un API di Data IQ o attraverso k-serve che è il componente di il componente di scusate il componente di kubeflow che fa serving di modelli di AI fino ad arrivare all'edge perché come abbiamo visto nella slide diciamo più più ampia possibile alla nostra infrastruttura alcuni dei modelli che stiamo sviluppando ci immaginiamo di eseguirli in un contesto edge quindi direttamente sui dispositivi che sono connessi attraverso rete 5G per chiudere diciamo il loop con gli strumenti che monitorano il modello e che consentono di acquisire dati gestire dati poi per fare retraining e chiudere appunto quello che è il ciclo o continuare meglio ancora il ciclo di vita del modello stesso questa diciamo slide vuole essere proprio anche molto scritta proprio come riferimento a quelli che sono tutti gli articoli che le pratiche MLOps vanno a impattare dal punto di vista della compliance futuri sviluppi della nostra infrastruttura sono quelli diciamo che prevedono l'arrivo dei nodi GPU che ci serviranno a fare sostanzialmente rag e fine tuning di modelli LLM per applicazioni che hanno più a che vedere forse in questo caso con l'ambito industriale che non con l'ambito diciamo delle life science ma diciamo questo lo guardo guardando la pipeline dei progetti non ho visto niente di effettivamente efficace e plausibile nell'area life science con il deployment di quella che ho definito diciamo lo stack R&D quindi una volta che abbiamo diciamo anche concluso tutto l'onboarding sulla piattaforma DataIQ comincerà quello con MLflow e incomincieremo a utilizzare i due strumenti integrati proprio per dare ulteriore flessibilità e aggiungere funzionalità che vanno nell'ottica di diciamo aumentare la compliance su sugli aspetti di tracciabilità che appunto e trasporti del previsti dell'AI Act e infine ma non meno importante incominciare a fare disseminazione di queste di questi casi d'uso e di queste pratiche proprio per confrontarsi e mostrare come diciamo come ci si prepara all'arrivo diciamo in in vigore dell'AI Act questo secondo me è un aspetto assolutamente importante infatti sono anche molto contento di poterne se volete anche prematuramente parlare oggi qui con voi sostanzialmente take on message che vi ho raccontato oggi è che come spero sia stato molto evidente tutte le norme che gli obblighi che in qualche modo ci dà l'AI Act sono stati costruiti o pensati avendo un po' in mente il modello ML OPS e quindi se noi strutturiamo i nostri processi e gli strumenti a supporto dei nostri processi con un'ottica ML OPS andremo a in qualche modo raggiungere compliance rispetto a quanto prevede l'AI Act l'aspetto chiave dal mio punto di vista che istituisce l'AI Act è il concetto delle regulatory sandbox che ci consentono di implementare pratiche ML OPS sperimentarle in esperimenti limitati di piccola scala di ricavare insight dati feedback da questi esperimenti implementarli e diciamo non frenare l'innovazione non frenare lo sviluppo e al tempo stesso farlo in una maniera che è diciamo sostanzialmente a rischio controllato e quindi anche oltre a essere rischio controllato è anche compliant con l'AI Act questo concetto di sperimentazione prima dello scale up della proof of concept è un concetto che nella nostro tipo di istituzione al centro di competenza è un concetto chiave è la nostra missione quindi è assolutamente allineata con la missione del centro di competenza stesso e quindi questo è il motivo per cui stiamo portando avanti questo modello nell'ambito di questo progetto di ricerca infine un grande ringraziamento a tutte le persone che stanno rendendo possibile questo non ci sono io e infatti non è un caso le persone sono senza doverle nominare però si occupano hanno competenze nella parte di AI sono data scientist AI engineer e sono tutte le persone che poi si occupano della parte più IT infrastrutturale della nostra infrastruttura e infine vi lascio anche qualche riferimento ultimo per primo ho messo evidentemente il testo della legge ma insomma ci sono già uscite un certo numero di pubblicazioni anche basate sul testo non definitivo ma che comunque assumono molto bene i principi che mostrano come anche al di fuori dall'Italia si stanno facendo queste sperimentazioni e qual è il valore che se ne possono che se ne può trarre in particolar modo mi sembra che i paesi che in questo momento siano sperimentando molto il concetto delle regole dattori sandbox in ambito AI siano la Spagna e Norvegia e quindi io mi aspetto che guardando che questi due paesi incominciamo a vedere casi d'uso che raccontano come in pratica effettivamente questo genere di istituzione porta dei vantaggi con questo io chiudo qui il mio intervento e mi predispongo per le domande allora guarda purtroppo non vedo nulla e quindi diciamo conto su di te Serena perché non riesco a vedere non ti preoccupare ci sono io ci sono io apposta domande purtroppo non abbiamo il tempo di farle io ne avrei già tantissime so che chiedono per esempio se le slide si potranno avere e questo sicuramente sì perché penso insomma che le condividerete agli organizzatori alle organizzatrici a fine intervento io ti ringrazio perché è stato veramente interessante tra l'altro appunto pagare qualche domanda te la farò in privato e niente grazie della disponibilità e diamo a questo punto spazio al prossimo speaker che è Marco Rossi che ci parlerà del monitoraggio nel contesto del del language models grazie Alessandro grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti